Grazie Gianluigi, inviteremo il professor Claudio Cordiano a portarvi il saluto della Società Italiana di Chirurgia, che ci vede riuniti tutti, chirurghi universitari e ospedalieri, società che il professor Cordiano in questo bienio ha stimolato proprio ad affrontare le problematiche di cui si diceva prima, con linee guida, riunioni e procedure inerenti alla sicurezza. Il professor Cordiano poi ci terrà anche una lettura magistrale, di cui non so il titolo, è una sorpresa, perché il professor Cordiano è sempre una sorpresa, è vero Claudio? Io porto il saluto sì della SIC, la SIC è, come avete sentito, un'importante società scientifica che non può che pensare a queste cose che ha detto Gianluigi Melotti. Non può non pensare perché si tratta di temi non solo italiani. Non è vero purtroppo che negli altri paesi le cose sono meglio che da noi. Negli Stati Uniti di America, che è il paese leader del mondo occidentale, le situazioni medico-legali sono di gran lunga peggio che da noi. Si tratta quindi di un problema complesso, per cui molte questioni sono quelle riferite da Gianluigi, ma vi sono ancora ulteriori vicende, come la struttura giuridica del rimborso, il ruolo degli avvocati, signor Sindaco, che è estremamente importante nell'agavare la soluzione del problema, di non renderla facile, la struttura assicurativa e poi anche il ruolo dei dottori. Noi, il nostro ruolo. Non è vero che noi non abbiamo delle colpe, anche noi abbiamo delle colpe, ma non è vero neanche che gli amministratori non abbiano delle colpe. Oggi i tempi della produzione di beni e servizi nella sanità sono molto cambiati rispetto al passato. A noi manca il tempo della relazione umana col malato, perché voi, signori amministratori, ci imponete dei ritmi, avete inventato le reti, state andando verso un economicismo burocratizzante che ci impone delle pressioni della temporalità distorsive nella produzione di beni e servizi. E quindi questo giova poi alla fine sul rapporto medico-malato. No, credo di no. Credo che una delle cose che abbiamo perso in questi tempi e quella grande alleanza che c'era alla fine della guerra e che c'è stata per tutto il mondo romantico tra medico e malato, essa non c'è più. Bisogna ricordare che la medicina e il gesto della salute si è immercificato, vale quattrini e quindi di fronte a questa novità assoluta si realizzano una serie di conseguenze che in questo momento sono di difficile gestione. Noi dobbiamo fare queste cose, come dice Gianluigi Benotti. La società italiana di chirurgia ha prodotto recentemente, su richiesta del Ministero della Sanità, ha fatto un lavoro importante sui consensi informati, sulla privacy, sulla sicurezza e su tutte altre questioni che attengono la sicurezza del malato. L'ha fatto stampare in 10.000 copie e la regalerà a tutti i medici italiani, sia a quelli della società che a quanti altri ce lo richiederanno e credo che su questa strada bisogna andare avanti. Questo è un augurio anche relativo a questo incontro di domani mattina, l'augurio che questi aspetti aiutino a migliorare il problema del risk management e quindi siano una fonte di ispirazione, di cultura e di riflessione. Pertanto ringrazio il professor Saviano, ringrazio tutti voi, ringrazio le autorità per avermi consentito di parlare qui in questo momento. Allora vi dico che io non volevo venire perché sono venuto l'anno scorso, però l'anno scorso ero stato invitato a cena e la cena mi è stata negata dal professor Saviano. Allora per guadagnarmi la cena questa sera presso il miglior ristorante vi annoierò un po'. Ne volevo parlare di cose tecniche perché solitamente nelle inaugurazioni ci sono molte persone che non sono addetti ai lavori tecnici della chirurgia e riduce da un recente seminario con i filosofi della scienza e con gli storici della scienza sulla struttura della chirurgia, su che cosa è la chirurgia. Ho ritenuto di farvi perdere mezz'ora del vostro tempo e soprattutto penso anche, spero di non annoiarvi, ma il rischio di annoiarvi è tanti, di vedere cosa c'è stato in tre, quattro momenti della storia dell'umanità dietro la chirurgia. Di parlarvi dello spirito della chirurgia, della cultura sommersa della chirurgia che ha prodotto la chirurgia in quattro, cinque momenti di questa storia. Si tratta di non ricordare la cultura materiale della chirurgia, che pure intrisa di materialità, di apparati tecnologici, di carne reale, per usare un vocabolo filosofico, e quindi un po' questa è una cosa tediosa, ma io ho pensato di fare questa perché è una cosa di cui sono sostanzialmente appassionato. Vi parlerò di quattro momenti essenziali alla chirurgia. Prima vi accenerò al razionalismo ionico del V secolo. Nel V secolo, in Grecia, avvengono delle cose assolutamente originali e si allude ad Ippocrate, il quale fonda le basi teoriche e pratiche della medicina, separando la prognosi dalla magia, inventando l'anamnesi che venti anni dopo Tucidide considera la base della ricerca storiografica, dicendo che il malato è soggetto a fattori ambientali, inventando così l'epistemiologia, ma soprattutto creando una unità del sapere medico. Se voi leggete le pagine sulle fratture, sull'arte, vedete che non ci sono attente riflessioni sui segni e sintomi della malattia, ma anche i dettagli delle operazioni che sono giunte per moltissimi secoli più avanti sono guardate con grandissima attenzione. La unità del sapere medico è un elemento costante del trattamento del discorso di Ippocrate, ma qual è la struttura epistemologica portante di Ippocrate e la tecne? Una condizione che poi viene ripresa anche da Aristotele e che si riferisce al fatto che si tratta di una struttura di produzione mediante scienza, ed è per la prima volta una condizione nuova ed originale che inserisce le regole dell'osservazione e del metodo. Questa cosa porta anche la istituzione della professione del medico e per la prima volta nella storia dell'umanità le scuole mediche. Ma evidentemente queste cose hanno il loro tempo, perché circa siamo nell'età di Pedicle e tutto avviene in villaggi di pietre e di intellettuali, di marmo e di intellettuale, come è la Grecia di quei tempi, sottoposta ad una rivisitazione sconvolgente di tutte le professioni. Nel V secolo emergono le professioni e che cosa succede? Succede che alcuni pensieri relativi a questa medicina non sono evidentemente soddisfacenti e che la storia degli animali, gli animali, costituisce un modello che aiuta la chirurgia. Non sono gli animali di Pitagora sacri e neanche quelle di Platone catalogati con strumenti antropologici. Nelle catalogazioni platoniche si riversa all'antropologia del soggetto sono piuttosto quelle di Aristotele, il quale nella sua storia fa per la prima volta le dissezioni sugli animali. E questo costituisce una novità assolutamente importante, perché nella storia aristotelica sono rivisitate in continuità, con scarsi risultati per la verità, il bisogno di analogia tra il corpo degli animali e quello umano. Questo è un progresso ulteriore. Chi coglie i frutti della dissezione degli animali di questo grande intellettuale del IV secolo è la scuola ellenistica. Tra lì a poco scoprirà la scuola ellenistica, soprattutto ad Alessandria. E si tratta di una cosa poco studiata fino ad un recente passato. In Italia l'hanno studiata un grande filosofo della scienza, storico della scienza, Veggetti. Il russo, recentemente professore di fisica a Roma, collega anche ancora in cattedra, in carica, ha riportato la storia della medicina ellenistica, che faceva riferimento soprattutto ad Erofilo e a Rassistrato. Persone che hanno fornito degli apporti considerevoli ed originali alla storia della medicina. Ma oltre a questo avrei da dire che questi signori per la prima volta introducono la vivisezione, parlo della vivisezione, non solo la dissezione dei cadaveri, ma la vivisezione su detenuti, su persone messe a disposizione dal potere di Alessandria. Questo fa sì che numerose sono le scoperte di questo ambito, di quest'area, ma vi è una distorsione. La distorsione nasce dal fatto che queste scoperte anticipano di molto la medicina. E le due cose non vanno d'accordo. 50 anni dura la ricerca alessandrina. Poi ad Alessandria ritorna al potere il mondo paleoegiziano. E a poco a poco la ricerca alessandrina deperisce, si disperde ad Antioca ed in altri posti del Mediterraneo finché si chiude nel IV secolo con la morte di Ipazia. Ipazia è la giovane matematica che viene lapidata dai cristiani nel IV secolo in uno dei tanti incendi di Alessandria con cui il pensiero alessandrino si chiude. Ecco, questo è uno dei passaggi dello spirito della chirurgia. Un saggio questo che ho voluto, cui ho voluto accennarvi. Poi incomincia un secondo passaggio, l'età buia medievale. Voi sapete come alla fine del Quattrocento tutto diventa critico, difficile, del IV secolo dopo Cristo. E dopo un'iniziale continuità nei conventi, nel Vivarium o giù, ma anche nell'area Ravennate, i bizantini sono al potere e al sud resteranno per altri 5-600 anni, al nord molto di meno, emergono fatti, diciamo, di gran lunga, di minore importanza, ma che vanno ricordati. Intanto emerge la medicina monacale, la medicina scolastica e ontologica e la rivisitazione di Ippocrate e di Galeno e dogmatica e astratta ed è funzionale a un dispositivo interpretativo della materia che non consente manipolazioni né intrusioni. Su questa base cresce l'Alto Medioevo con due filoni costitutivi. Il primo è quello dei conventi, il secondo è quello della medicina popolare. La storia dei conventi è estremamente interessante, anche curiosa. I monici barbitonzori compiono gesti di chirurgia, ma nel 1092, con un edetto ai monici della stragrande maggioranza degli ordini, è proibito di svolgere il lavoro di barbiere. I barbieri laici entrano nei conventi, gli stessi barbieri laici che fuori compiono piccoli gesti chirurgici. È una commistione tra medicina monastica e medicina popolare che porterà ad una vera e propria rivoluzione. Ma più avanti le cose si aggravano. Nel 1130 e nel 31 il Concilio di Clermont limita l'attività chirurgica dei monaci in maniera definitiva e ne consente solo l'attività medica. Infine, nel 1170, l'editto di Tours dice che ecclesia abborreta sanguine. Da quel momento in poi la medicina è consentita ai monaci e a tutte le persone religiose, mentre al contrario la chirurgia è separata. La chirurgia si laicizza, ma essa sarà assegnata per più di mille anni dalla divisione dei due saperi. Da un lato il mondo dei medici dotti, monaci e laici, gli studiosi dei testi del passato, i fisici che non possono alterare i corpi, dall'altro il mondo subalterno dei chirurgi. E la malattia diventa superficiale, la terapia conservativa. La causa della malattia è la cosa da portare all'esterno del corpo, come i calcoli o da isolare come nelle amputazioni. Gli organi profondi non possono esistere. L'attività manuale è guardata con disprezzo. Chi racconta questa storia è un passo celebre di Valsalva, che nella introduzione alla sua fabbrica lo descrive in maniera molto attenta. Io l'ho ripreso perché è piacevolissimo. Egli racconta, quando decaddero tutte le scienze, i medici più autorevoli, disprezzando la chirurgia, cominciarono a insegnare agli inservienti le operazioni che ritenevano doversi compiere agli ammalati, e stavano loro vicini mentre operavano, come fanno gli architetti con il capomastro. Poi tralignarono rapidamente dal severo costume degli antichi, abbandonando la chirurgia dei barbieri. E così, con l'andare del tempo, il sistema di cura risultò diviso così miseramente che i medici, presentandosi col nome di fisici, arrogarono a sé soltanto la prescrizione della medicina e della dieta per i mali nascosti, e lasciarono il resto della pratica medica a coloro che chiamano chirurgi e che considerano appena degli inservienti. Ecco, questo avvenne nell'ambito della cosiddetta medicina adotta, ma intanto, nel frattempo, già nell'alto medioevo, la medicina popolare è sotterranea, ma è diffusamente premente in tutta Italia. Questo fenomeno è essenziale, come vedremo, per la nascita della chirurgia italiana. Io vi ricordo un esempio di questa condizione popolare in Orcini. A Norcia c'è la macellazione della carne per Roma e si sviluppa una pratica chirurgica che porterà i Norcini ad essere presenti alla Corte di Parigi e di Londra fino al XIII-XIV secolo. Un'attività assai importante che svolgono in maniera autonoma, assolutamente separato da istituzioni di nessun ruolo. Essi non sono istituzionalizzati. Ma oltre a questo vanno ricordati altri fenomeni, soprattutto in Francia. I ciarlatani, che sono in Italia e in Francia presenti, i mires in Francia, i cirauli, da cui il cognome che vedete nel sud, ciraulo, ceraulo, ceravolo, che sono nell'area araba di tutto il sud, e a Parigi i medici con la veste lunga e quelli con la veste corta, che si fanno battaglia tra di loro, ma che verso la fine del Medioevo avranno i primi riconoscimenti istituzionali. Una grande folla, una sorta di medici dai piedi scalzi che svolgono un lavoro silenzioso, scarsamente retribuito, sostanzialmente privo di cultura. La scuola salernitana è l'insieme di queste due vicende, con l'aggiunta di un dato. Già la leggenda della sua fondazione riporta il dato nuovo cui accenerò. Nella fondazione si dice che sono stati quattro maestri, un greco, un latino, un arabo e un ebreo. E questo indica il sincretismo culturale da cui origina questa scuola. Il secondo aspetto importante è che la scuola introduce nel pensiero chirurgico tutto il pensiero greco antico, latino e il nuovo pensiero arabo. Direi che la scuola salernitana è il primo grande ritorno della chirurgia. Tralascio i nomi importanti che alcuni sono di diffusa, a conoscenza altri sono più per gli addetti ai lavori. Basta citarvi invece due libri, la Rolandina e la Ruggerina, che vengono stampate in 300 ristampe fino a tutto il 400, sono due opere della scuola salernitana. E per la prima volta emergono i testi dedicati esclusivamente alla chirurgia e all'urologia. Inoltre si avvengono delle modificazioni importanti anche istituzionali. Federico II nel 1150 riconosce per la prima volta la formazione della chirurgia e obbliga gli allievi chirurgi a frequentare un chirurgo anziano per almeno due anni perché se no non avrà mai la licenza. È un riconoscimento istituzionale. Si formano, come dicevo, le scuole, una grande diffusione di testi, una importante attività assistenziale, la circolazione che sarà caratteristica di tutto il Medioevo, di docenti e di discenti e quindi di EU. Per la prima volta in questo basso Medioevo si ha la riscoperta della medicina e della chirurgia. La chirurgia a Salerno ha una presenza assai significativa. Ma qual è l'effetto di questa scuola che alla fine del Duecento incomincia a entrare in crisi? Sul piano formale essa sarà abolita da Gioacchino Murà nel 1805-1807 ma poi non vive più di importanza. Il significato importante, l'ulteriore significato della scuola chirurgica salernitana è che essa costituisce un elemento di emulazione per la fondazione delle scuole nelle grandi città e nelle piccole città del nord. Cremona è un esempio importantissimo, Parma e Lucca, ma ovviamente assai importante, Bologna e Padova. Ugo da Borgognoni fonda la chirurgia a Padova e l'università e suo figlio Toderico lo segue dopo. Egli ha una scheda di allievi che sono suo figlio Bruno da Longobuco e Guglielmo da Saliceto. Bruno da Longobuco, venti anni dopo, fonda la chirurgia a Padova. E da ricordare un altro personaggio importantissimo, Lanfranco, che nel 1290 fugge a Parigi coinvolto da gravi lotte tra Gelfi e Ghibellini. Lanfranco svolgerà un ruolo essenziale nello sviluppo della chirurgia francese. Lo attestano gli iscritti di Guy de Choliac a Parigi e suo allievo e di tutti gli altri suoi allievi parigini. Con l'andata via di Lanfranco e anche di altri chirurgi si chiude un ciclo splendido di rinascita della chirurgia medievale italiana. Alla fine del Trecento si realizzano per ben due volte due avvenimenti. La peste coglierà l'Italia in maniera assai severa e documenterà l'impotenza dell'attività medica. Le scuole subiscono un colpo di maglio e per un po' di tempo si fermano. Ma questo, dicevo, lavoro non è stato vano perché negli ultima parte del Trecento emergono già i primi bisogni di chirurgia. Mondino Daliuzzi e Lanfranco lo scrivono a lungo nei loro testi e Lanfranco riprende il discorso ippocratico dell'unità del sapere, che egli dice essere estremamente difficile da risolvere, mentre per Ippocrate era scontato, ma pone questo problema. Alla fine del Medioevo sul Quattrocento il Teatro Anatomico diventa la nuova sede della formazione del chirurgo e della ricerca per fornire nuova linfa alla chirurgia. E questo è il secondo punto di cui vi volevo accennare. Poi il terzo e poi infine il quarto. Spero di non annoiarvi più di tanto. Il Seicento e il Settecento. Nel Seicento e nel Settecento lo scenario della filosofia cambia radicalmente e la medicina ne è informata, soprattutto per colpa di Galileo e di Cartesio. Questo colloca la medicina tra le scienze che traggono i propri principi dalla fisica. Ma è la distinzione da lui portata a maturazione, presente già in Tommaso e in Aristotele, della distinzione tra res cogitans, pensiero, anima, come lo si vuol chiamare, e res estenza, segna lo spostamento e consente agli studi medici di essere tali anche i religiosi. Si costituiscono, sulla base della iatro meccanica e della iatro fisica, i primi apparati per misurare le funzioni dei corpi. Ma la grande rivoluzione avviene a Padova, alla Salpefier e in Olanda, dove Morgagni, Bichat e Verev studiano le relazioni tra modificazioni anatomiche e sintomi del cadavere che essi studiano. Lo sguardo sul cadavere che Foucault, che un filosofo morto pochi anni fa e la fenologia hanno analizzato in tutta la loro sua complessità, costituisce il gesto elementare ma attrezzato per la conoscenza dei segni e dei sintomi della malattia trascorsa. Vi cito un pezzo, grande mito del libero sguardo, che nella fedeltà dello scoprire riceve la facoltà di distruggere, dove l'osservazione si compie nel mutismo delle teorie, sguardo purificato che purifica. Così Foucault racconta la nascita, nel libro La nascita della clinica, racconta la crisi della teoria definitiva degli omori e la necessità di stabilire un senso tra la clinica e l'anatomia. Tutti gli storici dichiarano che Morgagni più di altri e gli altri di questo gruppo, anzi, hanno influenzato la chirurgia più di tutti gli altri saperi medici. Da adesso l'anatomia sarà il principale evento formativo del chirurgo, inizieranno gli studi di anatomia sutilis e, perché no, incominceranno le prime osservazioni di anatomia endoscopica. È proprio di questo tempo il primo tentativo di guardare, con endoscopi, oggi diremo malfatti, difficilissimi da gestire, gli organi interni. Anche il ruolo sociale del chirurgo cambia. Se nel 1505 la chirurgia era svolta dai berbieri che per legge dovevano giurare di non somministrare mai medicine lassative o alternative e di non prescrivere nulla che non riguardasse l'operazione manuale, già nel 1671 Luigi XIV riorganizza l'insegnamento alla scuola reale di chirurgia del Jardin de Plante, togliendolo ai medici e affidendolo ai chirurgi, anche se ancora in posizione subalterna. La figura del chirurgo professionale è così legittimata dalla sua partecipazione nella pienezza del processo di cura. È un grande salto di qualità che i 600 e i 700 illuminista forniscono alla chirurgia. E questo il terzo punto. E ne ho uno solo che a me particolarmente interessa molto, ma interessa a tutti i chirurgi, il mondo romantico. Perché nel mondo romantico si realizza l'età del trionfo della chirurgia, l'età d'oro della chirurgia. Il mondo romantico è mosso attivamente dalla bufera napoleonica che agisce direttamente sulla chirurgia con il miglioramento delle rese, delle amputazioni e di tutte le altre ferite chirurgiche. Non è raro il fatto che le guerre modificano tecniche chirurgiche e aiutano la medicina. Ma anche in un chirurgico, basta ricordare il polmone da sciocco, definito ancora oggi da Nan Lang, oppure con altri termini. Le guerre, la bufera, l'enorme quantità di problemi suscitati da Napoleone in termini di traumi, di ferite, indica una diffusione e un rinnovamento in quest'area del sapere, ma influenza di più la circolazione delle idee e soprattutto delle idee romantiche. Il mondo romantico concepisce il rapporto con la natura come centrale della sua filosofia. La natura è una forza fitale, la natura è unitaria, la natura è più importante delle sue varie parti. Sembrano cose lontane dalla nostra attività chirurgica. Decifrare il messaggio della natura tra scienza e magia è un impegno fondamentale del medico filosofo. Blumenberg, che insegna filosofia e della scienza a Bonn, sostiene che esiste una medicina romantica. È una cosa paradossale, si potrebbe dire dell'età romantica, invece lui sostiene questo passaggio. In effetti ci sono delle novità importanti che seguiranno tutto l'Ottocento. Al di fuori del tema vi ricordo che in questi primi dieci anni tre persone sul lago delle Mano, Byron, la Mary Persicella e un certo dottor Polidori si scrivono, si mettono a scrivere un romanzo. Ognuno per conto loro fanno la gara, queste tre persone. E uno scrive il Frankenstein, o Frankenstein come si vuole dire, Frankenstein. Ma che cos'è questo se non un sogno di immortalità? La vita artificiale. L'altro, il Polidori, scrive la storia del vampiro. Ma che cos'è se non una storia gotica di immortalità? Il vampiro si alza la notte e succhia il sangue per restare immortale. Allora queste nuove cose emergono per tutto il secolo, finché Alexis Carrell alla fine del secolo prende poi il premio Nobel per i premi studi sul trapianto. E allora evidentemente questa vicenda, dapprima puramente romantica e poi idealistica, perseguirà il secolo, lo influenzerà in maniera importante. La chirurgia romantica si divide in due tappe, la prima fino al 50-1850 e poi la successiva, quella che ci ha accompagnato fino al 1960. Cioè buona parte degli interventi chirurgici messi a punto tra il 50-1850 e la fine del secolo ci hanno accompagnato per tutto il secolo passato fino al 60-70. E quindi guardate l'importanza di questo passaggio. Nella prima parte del secolo si ha un'attenzione forte all'uso dell'anatomia. De Sol, seguace di Bichat, che lo dice nei suoi scritti, inventa la patologia chirurgica, cioè la chirurgia degli organi profondi. Scarpa mette a punto un modello di cura anatomica per l'ernia e tanti altri rinnovano lo strumentario e anche le tecniche di cura. Ma è dopo il 50 che avviene una grande rivoluzione. Qual è questa rivoluzione? Molto semplice. Virkow scopre la teoria, mette a punto la teoria cellulare della patologia. A Vienna, Sammerweiss scopre l'antisepsi. Nel 1848 uno, nel 1858 l'altro. Nel 1846 la prima anestesia di Warren a Boston. Dirò poi alla fine che in questi quattro passi che vi dirò, ancora una volta, è sempre la riflessione e non la tecnica al cambiare il destino della chirurgia. È la scienza, è la ricerca che cambia la chirurgia, non è la tecnica. E questo è uno degli esempi più più importanti. L'influenza della teoria di Virkow è essenziale, perché con essa la teoria degli umori, che rendeva il corpo malato non curabile, perché unitariamente ammalato, integralmente ammalato, e che rifiutava quindi i trattamenti locali, per la prima volta rende possibile la chirurgia degli organi. Rende possibile la chirurgia degli organi con rispetto delle funzioni. E Birkow, una geniale presenza degli anni 60, 70, 80, creerà la chirurgia dell'esofago, dello stomaco, ripristinando la funzione. E poi più tardi la prima chirurgia polmonare. Da prima la chirurgia esofagea, torace chiuso, per via addomino collare. Questa cosa è a me cara, perché io l'ho ripresa 30 anni fa. Ma anche poi successivamente gli interventi a torace aperto. E come accennavo prima, Alexis Carell svolgerà lavori importanti per quanto riguarda la sostituzione i trapianti di organi. Di lì a poco ci saranno i primi trapianti di organi sperimentali. Anche in Russia nel 1923 Demikov metterà a punto un curioso, folclorico, ma assai interessante esperimento. Il famoso cane con due testi, il quale cane vive sette, otto giorni, una testa dorme e l'altra beve. È un esperimento, voi mi direte, sì, ma quanti stimoli forniscono a tutti questi insiemi di cose? Si esce dalla magia, ma ancora si rimane nell'utopia. Perché lo spirito della chirurgia è ancora un po' utopico. Ha dell'utopia, non è solo fatto di carne sezionata e di strumenti. Si porta con sé questo geist blocchiano, la speranza di cambiamenti, il sogno di cambiamenti. E così abbiamo sostanzialmente finito per dirvi che ho voluto dare dei passaggi, come accennavo ultimamente, proprio relativi a ciò che sta sotto la chirurgia, a che cosa c'è della cultura chirurgica sommersa che la provoca. Non parlo della chirurgia tecnologica perché credo di aver parlato proprio, sono sicuro di aver parlato proprio in questa aula anni addietro e quindi non ci ritorno. Devo dire brevemente che anche essa è frutto di ricerca in altre sedi e che pone problemi assolutamente diversi. Ma una parola conclusiva, lo dico, ogni tanto incontro qualche grillo parlante che mi chiede ma cosa sarà della chirurgia? Io stizzito lo metto a zettire perché dico non lo so. E come faccio a sapere dove andrà la chirurgia? Non lo so. Io devo dire solo che ricordo sempre un libro molto bello che con la chirurgia non ha nulla a che fare, l'ultimo libro che ha scritto Italo Calvino, che si chiama Lezioni americane, sei proposte per il prossimo millennio. Libro che, e ho finito, non vi annoio più, ma questa è una cosa che serve per divertirci. Libro che doveva costituire le sei lezioni fatte alla Norton, alla Harvard nel 1985-1986 su quelli che secondo lui era il destino futuro della letteratura, della poesia, dell'arte scritta. Ed egli scrive i primi cinque passi, il sesto non lo scrive perché muore prima, il primo capitolo dedicato alla leggerezza, il secondo alla rapidità, il terzo all'esattezza, il quarto alla visibilità, il quinto alla molteplicità, il sesto alla consistenza. Io ho letto questa cosa e vi devo dire che alla fine ho pensato alla chirurgia e ho detto ma come può essere la chirurgia del futuro? Se applico tutti i termini la chirurgia mi sfugge di mano, non c'è più. Ma forse questa è la cosa più bella che un chirurgo si possa augurare, che la chirurgia non ci sia più. Grazie.